Ciao Fabio! Ciao! Questo è Alex, il barbiere del quartiere. È davvero speciale Alex. Il suo palino fisso è quello di fare sempre il taglio giusto su misura per tutti. Corti, più corti. Ma quando è Alex a volere qualcosa su misura, sa dove andare. Con Vodafone scegli tu, scegli solo quello che ti serve. Minuti, messaggi e giga. Con Vodafone sei tu, al 100%. Solito? Eh, solito miracolo. Grazie a tutti.